Altro tema che richiederebbe un approfondimento, ma che in questa sede soltanto cito, la globalizzazione è l'americanizzazione del mondo per certi versi, lo stiamo duramente e dolorosamente riscontrando anche mentre vengo profferendo queste parole. La globalizzazione è l'americanizzazione del mondo e l'imposizione di quel modello in maniera violenta anche a quelle realtà che per una ragione o per un'altra non vogliono sottostare a quel modello, che siano la Russia, l'Iran, la Cina o il Venezuela, la globalizzazione procede andando fino allo scontro. Ove può usa i poteri morbidi, soft powers direbbero gli anglofoni, della colonizzazione culturale e simbolica, ove però incontri resistenze usa la violenza. Quello che sta accadendo ai confini con la Russia è esattamente questo, è una guerra che gli Stati Uniti hanno avviato già dagli anni 90, aggredendo un poco alla volta le aree del mondo che erano sotto l'Unione Sovietica, che poi dagli anni 90 non lo sono più state, che un po' alla volta sono passate rispetto a come erano sotto l'impero atlantista. Quindi si dice molto spesso, e sono perfettamente d'accordo peraltro, che l'aggredito ha ragione e l'aggressore ha torto. D'accordo, individuiamo chi è il vero aggressore però, perché è questa poi la questione a cui si riduce il discorso. Quindi vedete che la globalizzazione è un discorso molto ampio, che poi ha delle determinazioni molto concrete anche nell'ambito delle culture, delle identità, della produzione e del consumo, dei rapporti di forza su scala planetaria. Una cosa è sicura, la globalizzazione non può essere fatta coincidere con quel discorso rassicurante ed edulcorante con cui la fa coincidere il discorso dominante, che vuole presentare la globalizzazione come il one word dei diritti che si universalizzano, dei viaggi low cost, dell'identità globale in cui tutti siamo irenicamente unificati sotto il segno dell'umanità. Molto banalmente, non esiste l'umanità, esistono le singole culture, i singoli popoli, quella è l'umanità. Il discorso cosmopolita vi chiede di amare l'umanità rinunciando alla vostra identità culturale. Ma io posso amare l'umanità nella misura in cui incarno la mia identità culturale e amo quella parte di umanità con cui ha a che fare. Grazie a tutti.